benvenuti a tg 360 all'informazione flash a cura della redazione di arretto a quesio oggi è una grande giornata per la cogesta la gesta una struttura dei servizi corvietana è rimasta torvieto è più solida che mai e anche da oggi si può dire che è un futuro abbiamo qui celebrato l'arrivo dei ragazzi di confrattigianato l'associazione con la quale abbiamo stretto un accordo che durerà io penso a lungo loro fanno sindaca dei servizi noi facciamo servizi tutto per le imprese per far crescere il nostro territorio e mantenere ed accrescere i posti occupazione io ho una lunga storia qui dentro per cui non posso non accennare al fatto che io fondai la cogesta nel 1983 insieme ad alcuni amici meravigliosi alcuni dei quali purtroppo non ci sono più come Renzo Anselmi ma come penso a Massimo Guarnini a Sertro Carli a Remo Cavastracci ed altri ancora allora ne fu il direttore fino all'89 poi l'esperienza amministrativa come sindaco e ora sono ritornato come presidente siamo un gruppo di imprese che stanno lavorando per lo sviluppo economico del territorio e qui questa non è una struttura qualsiasi perché qui ci sono 25 addetti che ruotano 10 15 persone tra tecnici specialisti dottore e dottori ed altro per cui è una struttura complessa che è al servizio delle imprese è una giornata veramente importante siamo anche abbastanza commossi per questo abbiamo avuto qui Don Augusto che ha benedetto tutto l'apparato della struttura abbiamo inaugurato un nuovo ufficio perché i dipendenti da Confartigianato sono venuti a lavorare qui in questa struttura lasciando il loro ufficio anche la presenza del sindaco ci ha fatto veramente piacere siamo onorati di questo Confartigianato con gesta un accordo che il presidente ha detto che può durare a lungo voi altri come volete evidenziare queste cose è un accordo sicuramente importante per il territorio orvietano soprattutto per le imprese di questo confrensorio perché oggi più che mai è difficile fare imprese è difficile stare sul mercato e si ha bisogno di qualcuno che possa in qualche modo assistere noi imprenditori possa starci vicino e guidarci nelle molteplici problematiche quotidiane quindi una realtà importante come con gesta e dall'altra parte un'associazione di rappresentanza forte come Confartigianato sicuramente in questo connubio troveranno e trovano una giusta immagine una giusta rappresentanza per le istanze delle imprese quindi siamo sicuri che i presupposti sono ottimi e che anche in un futuro ci sarà questa collaborazione per molto tempo con questo è tutto tg 360 all'informazione flash a cura della redazione di arete acquesio torna puntuale tra un'ora